Musica Questo che hai appena detto della paura mi è piaciuto moltissimo perché mi sento stranamente nudo, è come se fossi sulla luna senza il mio scafandro e non potessi respirare. Questa sensazione, scusami, della paura, questa cosa della paura che hai detto è fantastica. La paura, io che cosa ho capito, avendo fatto le regressioni io, ma soprattutto avendo visto un migliaio di persone, che non sono poche, che ho visto che la paura la dobbiamo avere qua. La paura è di vivere e non di morire. Morire non spaventa per niente, cioè è molto più difficile vivere che morire. È un paradosso, viviamo tutta la nostra vita terrorizzati dalla morte, cioè il nostro leitmotiv, siamo terrorizzati letteralmente. Quando la morte è una cosa molto più paradossalmente piacevole di quanto a volte possa essere la vita. Ovviamente comprendete che non sto dicendo che la vita non vale la pena di essere vissuta, la vita va vissuta fino all'ultimo secondo. Perché? Perché sono esperienze diverse. Quando uno muore e sta lassù, trova questa pace, questa sensazione eterea, il discratto al corpo, altro tipo di sensazioni. Ma la terra pure, stiamo bene anche sulla terra, ossia sulla terra noi possiamo correre, possiamo saltare, possiamo mangiare, possiamo fare l'amore, come diceva mia mamma, fare sesso, come dico io. Non entro, scusate, faccio sempre questa battuta pessima. Comunque, abbiamo tutta una serie di piaceri che sono legati ai nostri cinque sensi, che sono anche più di cinque, però quelli terreni sono cinque, che vale la pena vivere. Però il dopo non ci deve spaventare, la paura è qua, non è là. Tra l'altro, parlando proprio di paura, in questo momento vorrei invitare tutti a non avere tanta paura. Perché viviamo nel terrore. I mezzi comunicazione ci terrorizzano, ma lo fanno per fare audience, questo lo sappiamo tutti. Io non sto sottovalutando il problema, non voglio nemmeno entrare nel discorso. Quello semplicemente che sto dicendo è che a volte, pur di fare gli ascolti in più, si calca un po' la mano. Questo lo fanno sempre. Allora, non vi terrorizzano, non abbiate paura, vivetela la vita. La vita va vissuta, va vissuta con gioia, si deve raggiungere l'altro, come diceva lei, abbassare questa montagna tra noi e gli altri e vivercela nel miglior modo possibile, perché è un'esperienza e vale la pena di viverla. Quindi, assolutamente, la paura della morte è proprio... Guardate, io qua, se mi chiedete, porta all'essenza, tipo, a una frase, qual è la tua missione, perché fai seminari, perché scrivi libri, perché ti dedichi a questo, per comunicare alle persone, da quello che ho visto, semplicemente dall'esperienza che ho avuto facendo le regressioni, che non c'è ragione di aver paura di morire. Perché se viviamo senza paura di morire, io da quando l'ho persa la paura di morire, e dice, se io adesso muoio, ve lo dico chiaramente, non me ne frega granché, voglia di fare un sacco di cose, altri seminari, oltre mila programmi, viaggi, ovvio, mi diverto. Però non è che se morissi adesso me ne fregherebbe granché, perché tanto so, più o meno che ho fatto il mio percorso, vado a stare meglio da quello che ho visto, pazienza, cioè, quando arriva, arriva quel momento. Non mi preoccupo costantemente del fatto che ci sia questo TikTok, di questo orologio, primo, perché non so quando avverrà. Che è il bello della vita, è il bello della vita, non sapere quando si muore, è la cosa migliore del mondo. Perché se io ora prendo, come ti chiami tu? Rosi, se io prendo Rosi, a caso proprio, così perché, se io prendo Rosi e gli dico, Rosi, tu morirai il 20 settembre 2088. Ok? Ok. Comunque, se metto una data qualsiasi alla vita di Rosi, Rosi, quello che farà da adesso al 20 settembre 2088, starà pensando a quello, a come utilizzare il tempo. Mentre se non lo sappiamo, ci gotiamo la vita. È il regalo più bello che ci fa l'universo, Dio, Buddha, mettetegli l'etichetta che volete, Allah. E non farcelo sapere, quella è la cosa più bella. Perché? Quando arriva, arriva. Cioè, tiratelo proprio fuori dalle vostre preoccupazioni. E di qualcosa moriamo. Cioè, che ha detto Laura? Che ti ha detto? Com'era? Come stava? Una favola stava. Scusate l'espressione un po'... E quindi... Ok, questo era un po' per fare un inciso. Ho voluto fare questo esperimento per farvi vedere come cambia, no? Cambia perché lei era un soggetto, diciamo, che era molto abituato. Mi è andata anche abbastanza di fortuna, perché così a caso. Io avevo chiesto che era di qualcuno che lo avesse già fatto proprio perché l'induzione, se non così rapida, non avrebbe funzionato nello stesso modo. Era solo per non perdere un'ora. però avete visto le dinamiche, ossia si riesce, facendo le domande, si possono capire molte più cose, si possono risolvere molte più problemi. È molto diverso rispetto a una di gruppo. Però ora poi noi ne faremo un'altra di gruppo, e quindi sicuramente lì andremo nel dettaglio. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.